buonasera buonasera a tutti ben ritrovati all'agendina gourmet questa sera parliamo di trieste ma non di pesce come vorrebbe il luogo comune ma di carne carne che risente evidentemente del fatto che trieste sia una zona assolutamente di confine un crogiolo di di genti come si suol dire così in modo pomposo ma insomma che ha subito le ha acquisito le influenze di vari paesi soprattutto quelli balcanici della middle europa con me c'è il dottor diego paschina che rappresentante della delegazione dell'accademia italiana cucina di mugia capodistria quindi siamo già trasfrontalieri e dove cominciamo dal cotto da dove cominciamo la carne di trieste ma la carne nasce dal fatto che comunque il pesce non bastava quindi ci voleva anche la carne e la carne era comunque un bene non per tutti e infatti ricordo che un chilo di manzo era circa la paga di una settimana di un lavoratore quando questo questo diciamo primi del secolo e quindi evidentemente non era per tutti e anche lì bisognerebbe distinguere le carni no ecco quindi prima di arrivare al cotto che sicuramente è il punto importante è da ricordare che la carne oggi è un bene che troviamo in supermercato senza problemi prendiamo quello che vogliamo e un esempio tipico è per esempio il fatto che adesso il pollo è quasi diventato un bene banale una volta al pollo era al pranzo della domenica senza andare tanto indietro la gallina la gallina no perché 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 la gallina così come si allevava al bue per il lavoro nel campo o per il latte la gallina era per le uova non era per la carne no quindi avere la gallina era un momento ma c'è stata una competizione tra virgolette gallina pollo coniglio e se c'è stata perché c'è stata ma allora il il coniglio ha un un gran vantaggio sta zitto ecco questo è interessante ecco infatti è interessante sapere che durante la guerra anche in città erano molti quelli che dovendo avere un po di proteine animali tenersi un maiale non era e un bue non era particolarmente comodo in un appartamento no e allora hanno incominciato col pollo perché il pollo la gallina era comodo faceva anche le uova e via no da cui anche il detto gallina vecchia fa buon brodo esattamente si era un po di necessità virtù cioè uno diceva te la do vecchio a perché perché fa più buon brodo magari era anche un po dura al tempi la non non ce n'erano c'era lo spargo però la controindicazione la controindicazione era che non tiene la bocca chiusa al becco chiuso ecco quindi c'erano sempre i vicini invidiosi che segnalavano poi alla polizia l'autorità proposte che questo aveva un allevamento in casa e allora si è poi passato al coniglio perché con il mio sta zitto puzza però in compenso puzza senta cominciamo a parlare di un piatto che si dice sicuramente triestino ma che risente delle della premessa che ho fatto io dal del mare del del vicino oriente del dei balcani cose abbastanza strane calandraca si chiama calandraca la calandraca è un piatto intanto come come si fa si parte da carne e verdure lesse si fa il soffrittino il solito soffritto si mettono e si aggiunge acqua e si fa andare come nasce questo ma allora io ho trovato una notizia così abbastanza interessante che mi aveva portato pensare che fosse una un modo per gestire la carne lessa che insieme alle verdure era venduta dal l'ospedale maggiore di trieste che ne faceva un gran uso per fare brodo quindi facevano il brodo veniva dato al malato e quello che avanzava veniva poi venduto a prezzi particolarmente vantaggiose e alle fasce meno meno ambienti della città in realtà potrebbe anche essere così così toglie tutto il fascino di queste di queste cose con cui sto cercando di ammantare questi piatti invece dice la carne di agnello e montone della dalmazia o dell'istria che veniva portato sulle navi salato essiccato poi veniva tagliato fatto bollire e quindi brodo e poi veniva appunto gestito in questo modo sulle navi sì certo ma diciamo allora noi dobbiamo ricordarci che non c'erano i frigoriferi non c'erano le ghiacciaie e soprattutto in determinati periodi dell'anno il mantenere il cibo edibile non era cosa facile a questo proposito per esempio nella valle osandra che è una una valle dietro trieste usavano moltissimo il lavoramento degli ovini quindi facevano il prosciutto però facevano che adesso non esiste la carne salata di ovino con cui veniva fatto un tipo particolare di goulash che era tipico di quella zona perché perché anche qui la carne fresca non era facile ma noi continuiamo ad ammantare di leggenda questa cosa allora questo piatto pare arrivi a trieste grazie alla moglie di un marinaio tale adesso mi sfugge il nome potrebbe essere sancin città sancin di servola che la porta dalla grecia però altri studi fatti pare che trovino qualcosa del genere anche in sud america quindi le cose ispaniche e in spagna dove tutt'altra cosa ma il nome lo stesso quindi abbiamo come dire un florileggio di possibilità rispetto a questo piatto che poi alla fine del giro è uno stufato quando arriva la patata e il pomodoro che diventa uno stufato però è voglio dire e anche in tempi passati il pre cuocere la carne era uno dei sistemi per prolungarne la conservazione quindi o veniva salata o veniva fumicata o veniva pre lei sostanzialmente un sociologo dell'alimentazione una cosa del genere no ma diciamo qualche volta mi chiedo no perché ogni tanto si assistono a delle delle degli incontri delle chiacchierate sul sul cibo e bisognerebbe sempre pensare quanto percentualmente è la popolazione interessata da quel discorso perché molta popolazione aveva difficoltà in certi anni a mettere insieme il pranzo con la cena quindi incominciare a disquisire o pensare poi sono arrivati gli anni buoni però sui grani di pepe mi diceva non stiamo a contare i grani di pepe però ecco voglio dire ci sono dei momenti in cui effettivamente per molti era difficile e poi è arrivato un momento di benessere logicamente quando l'uomo è godereccio di suo nel momento in cui ho la possibilità e mi avanza perché devo mangiare male ecco prendiamo l'avanza senta una cosa il cotto di trieste non possiamo non parlarne certo la la storia la legge non so come dice che arriva con le donne di servizio boeme che portano da praga questo questo alimento e lo diffondono in città si assolutamente quando non voglio far nomi però ecco non vorrei far nomi però sicuramente c'è stato chi ha molto ingentilito il 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 piatto perché inizialmente era molto affumicato molto 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 tosto oggi il il cotto che essenzialmente di due grandi famiglie quello in crosta e quello non in crosta cioè finito di cuocere nella crosta di pane oppure senza la crosta di pane quale preferisce lei ma devo dire sinceramente io preferisco quello non in crosta perché qualche volta scappa la mano è un po salatino e un po sottino mentre quello qui dopo birra drer e anche moretti da questo però l'importo quello che è bello del cotto è che tagliato a mano col suo osso tagliata a mano e qua mi viene in mente una appena arrivata a trieste perché non sono di trieste e mi ricordo che era andata a prendere sto cotto che subito mi era piaciuto davanti a me c'era una signora di una certa età e c'era questo il il salumaio che tagliava e a un certo punto questa stizzata fa la me darà anche un po de grasso cosa solo magro me vuol dar questo magari pensavo di farle un piacere per il colesterolo una cosa pensavo pensavo se arrivasse perché poi parliamo un attimo dei buffet perché il cotto fa riferimento questo a questo tipo di presidio la siora rosa era un buffet in cui questa signora a meno quel che ho letto avanti avanti ecco avanti con gli anni aveva un certo tremore e tagliava delle fette di uno spessore indicibile quindi era assolutamente gradita dal cliente però partivano pezzi di di prosciutto come no come libri eh sì ma infatti il prosciutto è buono quando non è tagliato troppo sottile che è una che è un'abitudine italiana questo ecco no il prosciutto cotto triestino deve essere un po spessetto senti lei che è della delegazione che va fin capo di istria e il prosciutto istriano cosa diciamo del prosciutto istriano vedo che sì ma la colina un po di a colina no allora il prosciutto il prosciutto istriano è molto buono però un po come il piccoletto ecco improvabile purtroppo è trovabile nel senso no magari fosse solo un problema economico è che trovi dei cialtroni che ti rifilano cose che non sono veramente valide per cui infatti quando uno trova un fornitore uno spacciatore di prosciutto istriano se lo tiene ben stretto uno spacciatore è un termine volontario usato volontariamente quindi uno spacciatore di prosciutto istriano se lo tiene volontariamente perché spesso sono dei prosciutti di ecco è un po come patta negra ce n'è di tutti i gusti di tutti i tagli quello buono invece quello è quello veramente buono è veramente buono torniamo un passo indietro facciamo un passo indietro e torniamo ai buffet pepe pepe ciavo pepe ciavo mi dice qualcosa di questo giuseppe lo sloveno si giuseppe lo sloveno esattamente questa istituzione triestina sostanzialmente si è un istituto erotti anni si era uno dei posti è tuttora uno dei posti cult in cui diciamo il suo successo è stato dato dal fatto che non secondo me almeno non ha mai tradito quello che gli dava da mangiare spesso troviamo gente che partendo da queste situazioni che vanno benissimo si inventa master chef e ti da la porcina con la nutella e dopo lì non si capisce perché ho chiuso hai chiuso perché hai fatto una porcheria vai avanti col tuo mi dica che hai provato la porcina con la nutella no però a roma la pizza con l'anas è da degenerati per me a roma una volta mi è capitato il maialino con le cozze e le assicuro che è stato un momento di di grossa depressione depressione ho capito come ne è uscito ne sono uscito andando dietro l'angolo e prendendomi un pezzo di focaccia romana quindi la caldaglia triestina come la fa pepi stavo è in effetti un vai sul sicuro ecco cadi in piedi cosa ci mettiamo vicino a questo creen che è raggiato ovvio e senape e crauti ah sì come si chiamano capuzzi no crauti capuzzi garbi sì che però non è che non sono quelli della iota per intenderci perché la iota vorrebbe quelli sotto sale che non è facilissimo adesso per comodità apri la scatoletta oppure indico però ecco in realtà dovrebbe essere ho capito che tra l'altro una cosa interessante è che la iota c'è anche in una forma con la provada è tipico della parte slava ma anche su e del carso in cui la iota ha anche il ho capito senta abbiamo detto la birra no ci va la birra vicino ma è il terrano quando lo beviamo è il terrano allora il terrano è un'altra di quelle di quelle cose in cui quando trovi quello giusto te lo te lo tieni e il terrano sicuramente è un è un vino che sgrassa moltissimo quindi sicuramente va bene con con qualcosa di inviti di impegnativo la porcina kaiser flash quelle cose così ecco le cranio cosa sono lo sai le cranio sono delle delle salsicce che invece che avere un impasto morbido hanno dentro anche un po di cottenna un po di di e sono dice qualcuno dice della zona di crani ecco per cui da cui il nome da cui il nome sono francamente un pezzettino va bene ma cioè farsi una mangiata di salsicce di cranio non le dura senta wustel ovviamente ci stiamo nella tradizione più perfetta tradizione meteo europea però adesso debordiamo un attimo andiamo nei balcani e abbiamo i cevapcici si cevapcici plescavizza no ecco i cevapcici sono anche qui ce ne sono molte versioni diciamo che quello misure su quello variano sì quello che è di sicuro è che non deve esserci un solo tipo di carne cioè deve esserci un assemblaggio e poi l'impasto viene aglio agliato ovviamente sì sì non è un motivo per condividere con il partner no perché sennò se quello ha mangiato un'altra cosa la sera andrà ormai è street food dice va ci sono street food praticamente si 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 la radice diceva Cevapcici, la conosce? No. Kebab. Perché arriva dal vicino oriente, dal medio oriente questa cosa. Sì, sì, e forse però... Perché poi il maiale hanno cominciato a metterlo quando è arrivato, ha sfondato la Slovenia, è arrivato verso l'Austria e il resto. Sì, sì, immagino che il kebab di maiale non me lo vedo. No, credo proprio di no, ma dico il cevapcici, i cevapcici hanno cominciato a avere la carne di maiale. E niente, poi c'è questa salsa famosa che è l'Aibar, che si usa. Sì, sì, anche qua in due versioni, c'è una versione piccantina per uomini veri e poi c'è quella, un ventino più dolce, no? Per le gentili signore. Eh? Per le gentili signore. Per le signore. Vediamo un farsessismo anche con l'Accademia. No, no, per carità. Con l'Accademia, con l'Accademia della... Sì, con anche molti accademici donne, se no dopo mi tagliano le orecchie. Senta, abbiamo parlato del Terrano, però Vitosca e Malvasia la fanno da padroni, quindi quelli li mettiamo vicino a cosa? Ma non sono vini facilissimi, anche perché non tutti si sono assolutamente messi d'accordo su come vinificarli. Per cui chiamare Vitosca e vedersi arrivare le cose un pochettino più strane non è difficile, perché oggi qua tutti... Metastasio diceva, è del poeta, al fin la meraviglia, no? Sì. Le patate mastruzzade, che sono le patate in teccia. Come si fanno? Eh, le patate in teccia si parte dalla... Triestine in assoluto, eh? Sì, 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 ecco. Si parte dalla patata lessa, dentro un po' di maialate, come abbiamo detto, no? No, strutto, uno ci può mettere un po' di pancetta, di cose, robe del genere. C'è la versione cipollata e c'è la versione non cipollata. Io preferisco la cipollata, personalmente, ma deve essere brustolà. Brustolà? Sì, cioè deve avere un pochettino... Un crosticina? Un po' di crosticina. Va bene, va bene. Dottor Paschina, è stato un piacere parlare con lei. Credo che abbiamo dato un'infarinatura, insomma, perché ovviamente non si approfondisce qua. Abbiamo un po', come dire, chiacchierato, per non dire qualcosa di peggio. E niente, la ringrazio e alla prossima. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie.